i nostri affetti che solo infiammati son nel piacer dello spirito santo letizian del suo ordine formati soddisfatte le domande sull'origine delle macchie lunari dante incontra le prime anime beate dai volti evanescenti e di color perlaceo che si avvicinano luminose come attraverso vetri trasparenti dante si volta credendo le figure allo specchio ma torna poi a riguardarle beatrice spiega che si tratta di anime che non adempirono ai loro voti per colpa altrui e lo invita a parlare con loro dante si rivolge all'anima che pare più disposta a ragionare con lui e quella dichiara ad essere piccarda donati una donna fiorentina conosciuta e ammirata dal poeta per le sue virtù pronunciati i voti nel monastero di santa chiara fu costretta dai fratelli ad abbandonare la vita claustrale e a sposare rossellino della tosa dante le chiede se le anime del cielo della luna desiderano elevarsi nei cedi più alti piccarda risponde che i loro desideri coincidono con quelli di dio che li vuole in quella condizione comunque di piena beatitudine dante le chiede allora quale fu il voto che non riuscì a mantenere e piccarda rivela che aderì all'ordine di santa chiara divenendo quindi sposa della carità di cristo racconta poi come fu costretta ad abbandonare la vita monacale rivolgendosi ad un'anima vicina piccarda rivela che si tratta di costanza d'altavilla madre dell'imperatore federico secondo anch'essa obbligata a infrangere i voti monacali ma in paradiso il passato terreno con i suoi drammi è ormai lontano e le anime felici intonano un inno alla vergine immersa in un'aura luminosa piccarda si dilegua salendo verso l'empireo come un corpo che attraversa l'acqua nel quarto canto dante viene a sapere che tutti i beati risiedono nell'empireo ma per incontrarlo appaiono nei cieli corrispondenti al loro grado di beatitudine l'ascesa al cielo di mercurio avviene nel quinto canto giustiniano che fa parte delle anime virtuose spinte però anche dalla sete di gloria esalta il ruolo dell'istituto imperiale nel nono canto raggiunto il cielo di venere vengono lanciate e diverse imbettive contro la stirpe angioina la marca trevigiana e la curia di roma tante e beatrice giungono nel cielo del sole nel decimo canto del paradiso nella suave armonia celeste tra gli spiriti sapienti prende la parola tommaso d'aquino che esalta la ricerca della verità grazie 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 grazie